Ciao Riga! So che chiedete dove sto o dove non sto, però vi devo annunciare che sto a Broma Termini e prendo un paio di giorni di lavoro qua a Roma, poi vedremo di incontrare qualcuno, chissà, vedremo. Ok? Un bacio! Bene, ciao Giuseppe, arriviamo a Perlavatiero, dove si trova oggi a Napoli, Gold Tower Lifestyle Hotel, usate la pronuncia un po' così, dice che se la prende con calma, Greta Rossetti con Lorenzo, sorella, e poi questo video qui che vi farà un po' sbaccanare, c'è Maddaloni che arriva e che balla, ho dovuto togliere il sonoro per questione di copyright, chiudiamo invece con l'edizione Grande Fratello più vecchia, Soleil Sorge, sempre bellissima, sembra quasi di plastica da quanto bella è, e se lasciate un like a Soleil e agli altri gifini e poi magari in descrizione, ciao!